Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Mi vedete tutta così sorridente perché da qualche giorno siamo arrivati in 4.000 iscritti e anzi ora saremo tipo 4.016 una cosa del genere e volevo ringraziarvi tantissimo e faccio questo video per avvertirvi dell'enorme sorpresa che ho riservato per voi. Me l'avevo già anticipato che avevo in mente di fare una cosa molto bella per voi e ringraziarvi in diretta. Perché in diretta? Perché ho intenzioni di fare un I tell you, spero si dica così. Vi invito a scrivermi o in direct su Instagram e quindi vi lascio il mio nome e il link nell'info box oppure lasciarmi il vostro numero di telefono nella mia mail che ve la scrivo qui e ve la scrivo qua sotto. Dove preferite? Avete tempo fino a... il 17? Oppure avete tempo fino al... oddio... fino al 15? Perché partirò per la crociera quindi vi lascio tutto il tempo per mandarmi tutti i numeri e vi mando tanti a noi baci, spero che siete tantissime e spero di poter parlare con voi. Ciao!